Nella Pieve di Santa Maria è il tradizionale concerto per il Calcit, in scena per la quinta edizione della manifestazione il coro cantore di vita e il coro giovanile voce in canto. L'edizione quest'anno è anche più ricca, arricchita dal coro giovanile e cantore di vita di voce in canto, poi ci sono due giovani, uno all'oboe e uno all'organo, Marco Rossi è un mezzo soprano, perciò una serata veramente bella, impostata molto con artisti giovani, perciò questo è un po' una cosa che a noi ci piace sempre, fare gli spettacoli con gente giovane e del nostro territorio. La serata serve anche a raccogliere fondi per il servizio scudo, ma diciamo che l'obiettivo principale è proprio di creare questo legame con delle realtà della nostra città, del nostro territorio, in modo che poi anche quella che è stata l'attività e la storia del Calcit possa proseguire il più a lungo possibile.